Meglio proteine o carboidrati? Meglio la singola vitamina o il frutto per intero? Meglio l'uovo o l'albumina? Beh, l'intero è più grande della somma delle sue parti. Ciao a tutti! Oggi voglio esplorare con voi un concetto chiave dell'alimentazione proposta da professor Campbell, Colin Campbell, autore dei China Study. Principio numero uno, attenzione, questo principio ci insegna che l'intero è più grande della somma delle sue parti. Cosa significa davvero questa affermazione? È perché è così cruciale per la nostra salute? Uno, quando parliamo di alimentazione spesso ci soffermiamo sui singoli nutrienti, proteine, carboidrati, grassi, vitamine, minerali. Tuttavia il professor Campbell ha scoperto che dobbiamo considerare il cibo in maniera diversa, come un sistema complesso dove i vari componenti lavorano insieme in modo sinergico. Pensate a un'orchestra, ogni strumento da solo può produrre una bella melodia, ma è solo quando tutti gli strumenti suonano insieme che creano una sinfonia armoniosa. Allo stesso modo un piatto di cibo non è semplicemente la somma dei singoli nutrienti. Quando mangiamo ogni componente del pasto interagisce con altri, creando una rete di relazioni chimiche che il nostro corpo utilizza per promuovere la salute o per prevenire le malattie. Per esempio mangiare spinaci non significa solo assumere ferro o vitamine come braccio di ferro. Gli spinaci contengono centinaia di composti bioattivi che lavorano in sinergia per migliorare l'assorbimento del ferro, proteggere le cellule con antiossidanti e persino regolare l'infiammazione del corpo. 2. L'interazione tra i nutrienti è fondamentale. Quando introduciamo il cibo nel nostro corpo inizia un processo complesso, la digestione. Ogni molecola di cibo, una volta scomposta, interagisce con altre molecole e con sostanze chimiche già presenti nel nostro organismo. Questo complesso sistema di interazioni determina non solo come quali nutrienti vengono assorbiti, ma anche come il nostro corpo risponde al cibo. Immaginate di mangiare un pasto composto da spinaci, pomodori e noci. Ognuno di questi alimenti è ricco di nutrienti unici tipo i pomodori contengono licopene, gli spinaci sono pieni di flavonoidi e le noci forniscono acidi grassi omega 3. Quando questi nutrienti vengono combinati si crea una sorta di effetto domino di reazioni chimiche che sono veramente mostruosi come quantità, magari poi vi condivido una scheda per chi me lo chiede che fa capire questa complicità enorme. Ad esempio, i grassi delle noci aiutano ad assorbire meglio il licopene dei pomodori, mentre i composti anti-infiammatori degli spinaci lavorano in sinergia con gli antiossidanti per proteggere le cellule. Queste interazioni non avvengono in modo casuale, ma sono il risultato di milioni di anni di evoluzione, in cui il nostro corpo ha imparato a utilizzare il cibo come un insieme piuttosto che una semplice somma delle sue parti. E' per questo che per ottenere il massimo beneficio dal cibo è importante mangiare alimenti interi, integri e vari piuttosto che mangiare cibi raffinati. Ecco, con conclusione cosa possiamo dire? La lezione chiave di questo video del principio numero uno di Cambri qual è? Dobbiamo imparare a vedere il cibo come un tutto integrato, non solo come un insieme di macronutrienti. Un pasto equilibrato non solo ci nutre, ma attiva una rete di reazioni che lavorano insieme per promuovere la nostra salute. Questo è il vero significato di l'intero e più grande della somma delle sue parti. Ogni ingrediente contribuisce a un risultato finale che è molto più potente e benefico rispetto alla somma dei singoli nutrienti. Grazie per aver seguito questo video. Se vi è piaciuto e volete sapere di più come migliorare il vostro benessere attraverso le abitudini alimentari, cliccate su iscriviti, seguimi, clicca un ok e se avete bisogno potete anche contattarci in privato. Ciao a tutti!